è natale e tutto tace c'è qualcosa sulla brace non è pollo né tacchino ma un canale birichino Waluigi Waluigi Walu Walu Waluigi Allora questo era diciamo un piccolo incipit per questo video volevo ringraziarvi tutti quanti è stato un anno veramente meraviglioso e come al solito mi sento sempre di ringraziarvi non solo per gli iscritti ma anche per i commenti per tutto quello che mi scrivete per tutto quello che mi dite per tutto l'affetto che avete dimostrato in questi 11 anni veramente mi a volte se ci penso non riesco neanche a mentalizzare cosa avrei fatto fino ad oggi in questi 11 anni se non avessi fatto youtube se non avessi portato avanti questo canale se ancora oggi non avessi voglia di portare avanti questo canale questo ovviamente era un breve video come ho detto prima per ringraziarvi per farvi gli auguri di un buon natale e di un felice anno nuovo ma soprattutto anche per farvi un po' cagare addosso per la wamageddon per chi sta partecipando quest'anno signori grazie a tutti vi auguro un buon natale e un felice anno nuovo e soprattutto e Merry Christmas